oggi giornata negativa dal punto di vista del punteggio però sicuramente abbiamo visto molte cose positive le partenze sono state sicuramente il punto dove siamo riusciti a fare quello che volevamo che avevamo preparato e quindi abbiamo dato battaglia abbiamo cercato di metterle in difficoltà e così abbiamo fatto penso che così dobbiamo continuare a fare anche domani domani un altro giorno il vento sarà in costante anche domani quindi continuiamo su questa con questa mentalità lottiamo fino all'ultimo e qualche errore sicuramente lo faranno anche loro se diciamo che abbiamo visto i kiwi probabilmente migliorare le loro performance soprattutto nella condizioni simili alla prima prova cioè con vento intorno ai 13 14 nodi andavano molto forte infatti abbiamo fatto fatica a tenerli a tenerli dietro nonostante abbiamo cercato di coprirli nel migliore dei modi dopo la partenza noi forse avremmo potuto fare qualcosa qualcosa di meglio anche da quel punto di vista questa sera analizziamo tutto come al solito e ritorniamo carichi e pronti per domani